Super bonus al 110% come bruciare una grande occasione per il rilancio economico del settore dell'edilizia. E questo secondo l'ordine degli architetti della provincia di Agrigento l'obiettivo a cui tendono da un lato i responsabili di frodi per decine di milioni di euro e dall'altro lo Stato che tira la cinghia con la riduzione dei passaggi di cessione del credito. Siamo pronti a scendere in piazza, afferma oggi il presidente dell'ordine degli architetti di Agrigento Rino Lamedola perché le continue modifiche alle norme che regolano gli incentivi del super bonus e le regole sempre più stringenti sulle asseverazioni alimentano confusione e incertezza e caricano eccessivamente ai liberi professionisti che si trovano spesso a interpretare norme e regolamenti edilizi poco chiari con il rischio di sbagliare in buona fede e di pagare il conto delle mele marce che con le frodi già accertate dalle forze dell'ordine rischiano di compromettere un percorso virtuoso per riqualificare il nostro patrimonio edilizio e per rilanciare l'economia del settore delle costruzioni. In questo contesto normativo, aggiunge il presidente degli architetti agrigentini, le assicurazioni tendono a rifiutare la stipula di polize peraltro obbligatorie in favore dei liberi professionisti impegnati nel super bonus individuati quale anello debole della catena produttiva. Tutto ciò, assieme alla riduzione dei passaggi del credito, rischia di bloccare un processo virtuoso che nel corso del 2021 ha notevolmente incrementato il prodotto interno lordo dello Stato e raddoppiato il fatturato delle imprese del settore edile. Non è accettabile, conclude la Mendola, che si vanifichi quanto di positivo il super bonus ha determinato. Per i professionisti è necessario che lo Stato ripristini almeno tre passaggi di cessione del credito, proroghi tutti i bonus almeno sino al 31 dicembre del 2023, anticipi la liquidazione dei compensi spettanti ai professionisti impegnati nella progettazione degli interventi del super bonus al momento della presentazione e della comunicazione ed inizio lavori ed elimini ulteriori pressioni sui professionisti considerato che il codice penale persegue già in modo chiaro i responsabili di falsi, frodi e truffe.